Angelo! Angelo! Allora raga, per vedere questo video dovete ascoltare prima questa mini intro per capirci qualche cosa Allora, prima di tutto buon Halloween Seconda cosa, il video durava più o meno un'ora e mezza Quindi io l'ho dovuto tagliare tutto perché altrimenti sarebbe stato impossibile E vi ho portato questo mini video mini Tutto bello, compatto Seconda cosa, tutto ciò che vedrete Soprattutto la cosa che succede al mio amico All'inizio noi pensavamo fosse un solito scherzo Cioè raga, chi è che si va a aspettare una roba del genere? Dopo, quando ce ne siamo accorti Veramente per noi è stata una cosa traumatica Cioè, voi lo vedrete Infatti all'inizio pensavamo fosse tutto un gioco Dicevamo, vabbè, ci sta trollando tra virgolette Invece no, voi lo vedrete Ed inoltre se avete qualche dubbio, qualsiasi cosa Chiedetemelo giù nei commenti Io vi risponderò appena possibile Quindi raga, buona Halloween, buona visione E godetevi il video Hola trollini, qua è Pepios Benvenuti nella seconda parte della Talo Luisa Raga, superate di nuovo gli 8000 like E forse, se questa va bene, vedrete la terza parte Non è sicuro perché non si sa niente ancora Ci sono sempre loro ad accompagnarvi in questa strana esperienza E siamo praticamente in una campagna abbandonata Che sarebbe di Angelo Però non viene mai utilizzata Non so il motivo, sinceramente, però è sua Sì, è mia da parecchio tempo, ma è abbandonata Ma veniamo ora Praticamente non veniamo mai Abbiamo deciso di farla qui la Talo Luisa E soprattutto, buon Halloween a tutti Quindi raga, mettete le cuffie E godetevi questa pazzia che stiamo facendo Dunque c'è... Che cosa? Ah! Che cazzo è? Non me ne chiedi Siete pronti? No Dai, Angelo, ti voglio un carico Tu sei quello che devi dirigere Per te è la terza volta A noi è la seconda questa, quindi Stavolta è peggio perché non sto bene proprio di mio Dai, Angelo, dai Se ti senti male la stoppiamo e basta Non continuiamo Allora, siccome siamo quattro giocatori Dobbiamo girare quattro volte in senso orario La Talo Uno Due Tre E quattro No, beh, rispetto all'altra volta Una volta ci devi credere L'altra volta è successo il macello Più o meno Dai, ciao No, l'altra volta dissero che ero io a spingere la planchette Ma... Cioè, noi non premiamo niente, raga Noi soltanto per girare questa volta all'inizio Ma non premiamo nulla Almeno che così ci diciamo Non penso che qualcuno di loro prime Neanche io perché altrimenti non ha senso Spirito Se sei in questa casa Dacci un segno Io sto che succede niente Pure la prova dovevi dire così Spirito Sei in questa casa Non succede niente Comunque, il fatto che Halloween è ancora più inquietante L'angu Sei in questa casa Ma porca Raga Voi? Voi siete qui Oltre la volta Posso toglierla? No, andate di non toglierla No, ma chi è? Non toglierla di due da sopra Spirito Come ti chiami? Era troppo bello che non ti muovesse niente Porca troia P P P P P, raga P P Ma comunque Cioè, è una cosa assurda veramente Vengono i brividi Domenico che invece di piangere ride bellissimo I P P P P C Sto tremando P P P P Già freddo P 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 Continuo P 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 Ma vedi che vendono i brividi sulle, cioè, sulle braccia, è una cosa assurda Oh Pietro 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 Raga, Pietro Ma è di rosa, eh È vero, l'altra volta era rosa, raga Stavolta Ma rosa era la vecchietta che abitava nella casa Pietro Ma qua è abbandonato Non ci avrà abitato qualcuno Eh, tu non sai da dove l'è Non lo so, è da parecchio, chissà così Vuota Ok, Pietro Quindi Ma che cosa dobbiamo chiedere, secondo te? Chiediamo gli anni Che dite? No, eh Pietro Quanti anni hai? Uno 12 No, due 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 anni No No Spera Che c'è? 24 Sì 26 26 26 26 26 Chi ha detto 26 anni? 26 Pietro Hai 26 anni Come può essere morto? No Sì No, raga Comunque noi non parliamo Ma siamo tutti e quattro abbastanza scioccati Cioè Ma anche il posto Ma 26 anni adesso O quando è morto? Penso Quando è morto Quando è morto Cioè Se la casa è abbandonata A meno che è morto 26 No Ma pure che è morto 26 anni fa Sei morto 26 anni Come può essere morto? Quindi è vecchia proprio Stava a casa Sto boom Sì, sì È vecchio Cioè è morto 26 anni È vecchio proprio Vabbè come si trova qua? 26 anni? Quanti anni fa? Come fa stava? Eh, che ne so Forse la casa è la sua Sì, può essere Chiediamo come è morto Ancora morto qua dentro Anda Pietro Puoi dirci come sei morto? E che assurdo comunque K M Ma 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 Manicomio Mi si era pure impigliato il braccioletto nel tavolo Manicomio Ma Guarda che sei manicomio Cioè andiamo ad ammazzare noi Mar Martoriato Martoriato può essere Che puoi si vediamo Martire forse Martire Mare 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 In mare Sei morto in mare? Ma In mare In mare Per essere morto in mare E' strano la cosa Non lo so raga 26 anni morto Sarà sicuramente Forse è negato Vabbè All'epoca Ci sta Assoluta E' sì Ma C'è un po' strano Sta cosa Noi praticamente Comunque abbiamo fatto qui la tavola Perché sembrava il posto più Strano dove poterla fare Perché comunque Poi se vi faccio venire Un po' fuori Abbastanza inquietante Soprattutto ad Halloween Però Come sempre Noi quando la facciamo Non ci aspettiamo mai nulla A meno che ci facciamo gli scherzi tra di noi Non succede quasi niente Quindi E' veramente una cosa Inquitantissima Ragazzi Oh Ma siete sicuri che non state muovendo? No 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 Cioè Poi ti faccio rivedere le riprese Quando finiamo Io non sto facendo nulla Sto tremando forte Non te la senti E che vuoi fare? Fatele voi Allora ragazzi Siccome Angelo non se la sente molto Le faccio io le domande E Speriamo che vada lo stesso Pietro Possiamo continuare la seduta? E' rimasto tutto A quanto pare no Aiuto Dove va? No raga No E' andata sul no Cioè non possiamo All'altra volta almeno Non mi pare che non è mai successo Che andassi sul no E che dovremmo fare? Cioè Cioè se va sul no Dovremmo continuare Per forza Perché non vuole che chiudiamo Cioè dobbiamo Io so che deve finire Quando va su goodbye E non basta su no Che gli chiedi a muover? Ma non Lo spirito Non lo so raga Io non so che chiedi Cioè non è mai successo Raga io non gli ho chiesto nulla Forza non ha finito Io non gli ho chiesto nulla Forza non è successo 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 Fuori Che vuol dire fuori? Fuori Vuole che ce ne andiamo Fuori Vedi che è bruciata Vuole cacciarci Non è che vuole che andiamo fuori Oh Angelo Lascia Angelo 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 Raga Raga veramente è andato Angelo Do me Angelo Angelo Ma portiamolo fuori Do me aiutami Ragazzi Almeno sentiamo la sedia la sedia la sedia la sedia sotto La sedia sotto ragazzi Che cazzo Oh Aspettate Porta Puttana Facciamolo Angelo 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 Attenzione Angelo Che cazzo dobbiamo fare? Porca troia Angelo Angelo Ragazzi Sei ripreso Ogni Integno Vada 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 Ma la candela l'abbiamo spenta mentre stavamo portando Angelo Ma che è pensata la candela quando è svenuto Ancho? Eh si ma ma sta spenta Stava accesa lui Si Vediamo nei video se sta acceso o no Eh ma devo rivedere il video Che sta... ha pure continuato a registrare Quindi ma anche lei lo vediamo insieme Assurdo Non ne vuoi dire Aspetta che la vado a... A stoppare infatti Raga Angelo ora è andato in macchina L'abbiamo portato in macchina perché ovviamente non stava bene E ora andiamo a vedere un po' come sta Sperando che sia tutto bene anche perché non vi voglio lasciare così sulle spine Tieni da me fai luce Qua ti sento Come stai eh? Stefano Aspetta arrivo stai sto parlando con Angelo Aspetta Angelo come stai mo? No sto mai Arrivo stai un attimo Ma vado a vedere un attimo Nucio e arrivo Che cazzo Vedete a vedere? Ho trovato una cosa Ma che cazzo di posto di un... Noi siamo finiti oh Vieni Porca vacca stavo pure cadendo Ma però vedi che è brutto proprio il fatto ad Angelo Porca vacca Che cazzo Mi sono preso una cazzo Che Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Raga Non ci crederò mai nella vita Non ci crederò mai Leggi leggi Che sta scritto Pietro 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 No raga non ci credo È lui Non ci credo Nell'età di 26 anni No e andiamoci Lontano dalla sua patria Andiamo raga Trovo... No io sono cagato sotto Andiamoci Preda oh infelice del mare Raga Io vi giuro Non è una cosa Perché non ci credo veramente neanche io Sto scemorendo sta cosa È vera raga Qua È ipietra Cioè non è finta È vera sta cosa No raga è verissima eh Stai ma qua sotto stanno le pietre Non è che c'è lì il suo accordo Io non lo voglio neanche sapere No e andiamoci Andiamocene scappando Veloci 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 ce ne abbiamo andata qua Vedi che è a cacarsi proprio forte Non me lo aspettavo proprio Ma i brividi Vediamo